Oltre un mese senza notizie, Cristina Novak, 29enne ucraina, è scomparsa a Daurentano, in provincia di Pisa, dallo scorso 31 ottobre, giorno in cui la polizia ha arrestato il suo fidanzato coinvolto in una vicenda di armi e droga. La madre Inna, che vive in Ucraina, ha presentato una denuncia di scomparsa il 9 novembre dopo essersi messa in contatto con il consolato. Al momento non viene esclusa alcuna pista, addirittura spunta quella dell'omicidio. Anche se gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle indagini ogni giorno che passa, senza che il giallo di Cristina venga risolto, aumentano le preoccupazioni. Si ipotizza che la giovane sia stata sequestrata oppure che sia stata vittima di una vendetta o di una violenza per ragioni che potrebbero non essere strettamente legate all'arresto del fidanzato, una 41enne di origini spagnole, attualmente recluso in carcere. L'uomo starebbe cercando di collaborare con gli inquirenti nella speranza che la 29enne fidanzata venga trovata, ma dopo oltre un mese la scomparsa di Cristina resta ancora avvolta nel mistero.